La casta è in pensione contro quella in carica. La proposta di legge sul taglio dei vitalizi non va giù agli ex consiglieri regionali che riuniti in associazione annunciano ricorsi. Il presidente del Consiglio regionale Jacop ha assicurato che la posizione degli ex consiglieri costituirà un contributo al dibattito che si avvirà in commissione giovedì prossimo. Ma la proposta è stata sottoscritta da tutti i gruppi consigliari a eccezione dei 5 Stelle e gli attuali consiglieri la difendono. Ho sentito dire prima pensate ai vostri privilegi. Attenzione che quei privilegi sono gli stessi di cui loro hanno potuto godere quando erano consiglieri regionali. In un momento come questo ogni persona che ha avuto incarichi e responsabilità nelle istituzioni deve dare e può dare un segnale. Abbiamo cercato di essere mediatori e di trovare delle soluzioni che contemplassero anche il dettato costituzionale, quindi l'adeguatezza e la proporzionalità. Credo che sia una soluzione alta che abbiamo trovato trasversalmente a tutte le forze politiche. È un atteggiamento che ci fa allontanare e non capire da parte dei cittadini queste cose che vivono sicuramente più difficoltà di quelle che vengono presentate da chi oggi è protagonista di questa diatriba. Io penso che la soluzione che è stata trovata sia una posizione di equilibrio. Io credo che la norma che è stata presentata con tutte le difficoltà e le mediazioni che sono evidenti in ogni provvedimento è molto equilibrata. Mi pare in linea assolutamente con quello che sta avvenendo a livello nazionale. Sicuramente non c'è nessuna volontà punitiva verso gli ex consiglieri. Diversa, come si diceva, la posizione del Movimento 5 Stelle in materia. Secondo noi i vitalizi che ancora rimangono in vigore, perché i futuri sono stati abrogati, devono essere ricalcolati tenendo conto dei contributi che ogni consigliere ha versato negli anni. Questo è quello che noi proponiamo. Per quanto riguarda la polemica, voi ci tagliate i vitalizi, voi non vi tagliate gli stipendi, da questo noi siamo abbastanza immuni perché noi fin da subito abbiamo fatto una proposta che contemplava tutto il pacchetto.